Hola Stados Los Chicos Oggi siamo qua per il commento del giorno E oggi abbiamo Un commento di Bonnie Nonché mio grafico del canale Che mi fa riguardo l'ultimo video Appunto di Minecraft che precede questo qui E assunto dell'episodio Ma che cazzo succede? Grazie dell'attenzione Ora io Bonnie non credo che Per tutto l'episodio io abbia detto Ma che cazzo succede? Che cos'è? Cosa, 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 cosa e cosa? Cioè non credo Questo cos'era? Cos'è qui per terra? Cosa diamine? Maiale cosa stai facendo? Cos'è quella roba? C'è un coso inquietante C'è un coso veramente inquietante Cos'è? Cosa sono quelli laggiù? Cosa? Cosa sono quelli? Cosa sei tu? Non ho capito Cosa sono sti cosi? Cosa? Cosa sta succedendo? Cosa? Cosa sta succedendo? Cosa sta accadendo? Ehm... Mi sa che aveva un pochino ragione Prima di iniziare il video Piccolo ringraziamento a quelle persone Che si sono degnate di farmi una fan art Infatti vorrei ringraziare il buon Gabriele Lovico per questa fan art messicana Vorrei ringraziare appunto la pagina Che mi sponsorizza Ovvero gli aforismi di Lord Creeper che nacque tempo fa Con l'Oscar Eduser Manos Per chi ha guardato Breaking Bad può capire molto bene E... Anche la buon Maria Che mi ha fatto questo... Questa fan art E poi... Il cuginetto Il cuginetto del buon Stefano Girardi Che... Ci fa questo disegno Questa fan art E quindi niente Vi lascio al video Per qualsiasi fan art Oppure immagine che mi volete fare Potete mandarmela sia sulla pagina Sia sul mio profilo E da lì Poi la metterò nel prossimo video Quindi vi ringrazio nel frattempo Questa è la storia Di un ragazzo Che già al secondo episodio Non aveva una casa Ed era un barbone A parte scherzi Ok bene c'è te Eccoci qua ad un nuovo video Ad un nuovo episodio Della serie Minecraft Fai da te Oggi siamo qua con il secondo episodio E non voglio subito perdere tempo Come ho fatto nell'ultimo episodio Perché mi avete tutti detto Ok do organizzati meglio E avete ragione in effetti Quindi organizziamoci meglio Dato che appunto Ho iniziato un nuovo mondo Dato che Ora vi spiego tutto Intanto vorrei ringraziare Dato che come vi ricordo Questa serie È Diciamo Ma che rumori sono Diciamo è supportata da voi Nel senso che Tramite l'hashtag Che vi lascio sempre qua sopra Ovvero Mod Per Lord Creeper È lei È Lei No Vattene per favore Non ti voglio Ok E tramite Appunto L'hashtag Mod Perché Due mod per Lord Creeper O come volete chiamarla Potete mettermi Potete consigliarmi una mod Per questa serie Ovvero che sia Per la 1.8 Ricordo Che non sia Erobrin Perché ripeto Erobrin in queste serie Non può esserci Vorrei infatti ringraziare Queste tre mod che ho messo Per questo Questo episodio Ogni Ogni Episodio Su per giù Metto qualche mod Che cazzo Corri così felicemente La vita è brutta Via Oh Oddio Impazzito A un certo punto Pensavo mi volesse venire addosso E comunque Ringrazio il signor Diamond67 Che mi ha Consigliato di mettere La Lucky Block Ovvero Tipo È un blocco La Super Mario Avete pensato Di blocchi Di Super Mario No Ecco È un blocco Di Super Mario Dov'è il sole Vabbè È un blocco di Super Mario Che possiamo trovare Randomicamente Per la mappa E Cliccandolo Ci spawna cose Succedono cose Quindi Ogni tanto Quando tipo Stiamo avventurando Per tutta la mappa Potremo incontrare questo qui E vedremo cosa succede Conoscendomi Finirà male Poi vorrei Ringraziare DusterOne Che mi ha Consigliato La Battle Tower Che appunto È un mio Ma te cosa vuoi Ok scusi Non lo faccio più La Battle Tower Che è appunto Un mio vecchissimo Ricordo Appunto Il mio telefono Come al solito È un vecchissimo Ricordo Come vedete Laggiù in fondo C'è la Battle Tower Ovvero Ve lo metto tanto Di là Ok Stiamo avvicinando Sempre più Allora ragazzi Pregate So che Pregate Che non ci sia un boss Scusi 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 È un boss Nicodemus Nicodemus Che mi ha Consigliato Tantissime Mod Però io ne prendo Soltanto una Per questo episodio Ovvero La Stalker Creeper Che praticamente Vorrei fare Intanto l'annuncio Che purtroppo L'Elemental Creeper L'ho dovuta togliere Perché mi ha fatto Se il video Questo video È ritardo Perché doveva uscire Appunto ieri Cosa Che verso è Stai calmo Ok Comunque questo video Doveva uscire ieri Ma purtroppo Dato che ho bestemmiato Come un maiale Per colpa L'Elemental Creeper Che va in contrasto Con il 95% Delle mod Ma che carino E quindi l'ho dovuto Togliere Niente In questa modalità È rimasto Quindi la Mo Creators Come state vedendo Perché ci sono animali Ovunque Tipo te Cosa vuoi E la Mo Creators L'Elemental Creeper Non c'è Ma grazie appunto Nicodemus C'è Il Creeper Che Non solo Ok Quando tipo I Creeper Quando ti vedono Vengono lì E ti esplodono Con questa mod Carinissima Che ci ha offerto Il signor Nicodemus Ora il Creeper Viene dietro di te E finché tu Non ti giri Verso di lui Lui non esplode Quindi sarà bellissimo Perché tipo Durante Mentre sarò Tipo nelle caverne Tipo io tranquillo Cammino Poi dico Ah devo tornare a casa Tipo mi giro E arriva il Creeper Che mi esplode Cioè il Creeper Aspetta proprio Che tu ti gira Ti giri Ti gira Ti giri Non mi viene ora E niente Esplode Quindi ora Dato che appunto Vi ho fatto tutta una cosa Vi ricordo che Potete consigliarmi Una mod Ok ragazzi Per questo Siamo a posto E ora cominciamo a fare Qualcosa di serio Perché Allora Per tutto devo fare la casa Iniziamo questa Danatissima casa Che appunto Ma chi è che saltello Ma guardate lì Che saltello Non ha tempo di musica Ma cosa Ma chi sono Più che altro Chi è Chi è che sta ballando Ma che mostri sono Ma è ancora quel conigli Ma è una gang di conigli Ma che caro Scusa Me ne vado Me ne vado Sono quello in più Qui Me ne vado Sono il quarto incomodo Me ne vado Tranquilli Non vi tocco più Non vi toco Subito caverne Subito caverne Io voglio fare proprio La casa Dentro uno di queste Madonna caverne brutte Cioè queste Buchi a caso No Tipo qui Possiamo fare un'isola Papo papo 2.0 Qua Qua Questo fiorellino a caso Qua In qualche modo Ma quanti conigli ci sono What the fuck Ok Possiamo farla qua Secondo me Possiamo farla Secondo me Qua Cosa era Era una farfalla Non lo so Praticamente noi abbiamo Soltanto questo Bene Smettiamo di parlare E iniziamo a fare La casa Carino Peccato che c'è Dentro una caverna Intera Vabbè Se chiudiamo qui La caverna La facciamo tipo qua Ci può stare Secondo me Praticamente Si Si ci sta Bella vista Si Quanto costa Si Chi c'è Aspetta vediamo se c'è qualcuno Qua che Chi è che vende questa Chi è il proprietario Di questa casa Chi c'è Nessuno Gratis Gratis Ok Ok Me la prendo C'è anche un albero qua davanti Che l'ho buttato qui a caso Ah già già Dato che era un nuovo mondo Dato che è un nuovo mondo Hard E si chiude qua Perché noi siamo hardcore Veramente hardcore Ok Mh Niente Bisogna iniziare a chiudere Perché appunto è un problema Se poi intanto Ma quante animali ci sono In quei dati Poi in questi episodi Andremo lì Quello sicuramente Voi consigliatemi Lo stesso cosa fare Cioè nel senso L'ascolto io Cioè non è che mi dovete Soltanto dire la mod O stronzatele Qui devo chiudere Magari ci cado dentro All'improvviso Se Ne son sicuro Ne son sicuro Che accadrà Ok Devo pensare A come fare la situazione Mi serve una pala Una pala Una pala Per togliere questa roba Che mi da Oddio Che cazzo di paura Quell'ucce Eh Cosa Perché Cosa Ma io non sono online Non sono online Perché non lo sappiamo Però ha fatto così Ha voluto far così È caduto il server Ma non sono in un server Quello è il problema Cioè sono un single player Vabbè Ok Mi servirebbe pure cibo Eh la pecora Non mi ricordo Se è da cibo Però magari quella I conigli danno cibo I conigli danno cibo No Mi ha dato pelle Sì Rabbit Tide Ok Tu mi dai No Mi dai esperienza Conigli Guarda Lì c'è la gang dei conigli Ce la faccio fuori Veramente Più o poi Mi chiamano il WWF Per sti video Veramente Oh carne di coniglio Car No Pelle Ok pelle E pecora Ciao pecora Non mi ricordo Se tu mi dai la carne Ma mi ricordo Forse bene Che tu me la dai Infatti me la da Ok Poi tranquillo Perché appunto Non ci sono tanti mostri Sto scherzando Perché sono Spawnati tantissimi Pecora Potrei farmi pure un'altra Eh No Lei non la tocco Ragazzi È il mio incubo È il mio incubo Ok Ci servirebbe L'ultima pecora Ragazzi Io non la ammazzo Lei Lei è sacra Oh Coniglio Cibo 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 Perché io non mi ci avvicino Nemmeno Via 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 Ci stiamo Ci stiamo allungando troppo Ragazzi Noi dobbiamo andare nella casa Serviamo un po' di cibo Mi sono allungato con Cazzo Che cazzo c'era giù Enderman Cos'è quel Coso nero Accanto alla strega Mamma mia Che ansia Veramente Mamma mia Que Oh 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 Ma non l'ho guardato Non l'ho guardato Ragazzi Non l'ho guardato Non l'ho palesemente guardato Dov'era allora la mia casa Ragazzi Non voglio che diventi Come l'episodio D'altra volta Ci mettiamo gli anni Poi Ci mettiamo veramente gli anni Ricordo pure sti buchi Dai Infatti continuiamo a fare le battute Sui buchi Cedo dai Per far Ah beh ecco la casa mia Però devo andare a riprendere la ro Mi hanno rubato la casa Mi hanno rubato la casa Fermi 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 un attimo Fermi un attimo Ma quanta mira Quanta mira Quanta mira Veramente Allora Cazzo Cazzo La mia roba La mia roba Zitti 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 Qui vicino Zitti Pecora marrone Dov'è la mia Dov'è la mia roba? Ragazzi Cos'è quella roba lì? No 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 Qualsiasi cosa Ma che è? Io oggi sono violento Ecco la mia roba Sto scheletro non si è accorto di me Bastardo infame Te Tuo fratello Che è qui Bastardo Ho ripreso tutta la mia roba L'ho ripreso Alleluia 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 Era orribile Ragazzi Ho gli incubi Veramente Avrò veramente gli incubi Per sta cosa Però vabbè Torniamo a casa Rimettiamo il Allora Chiudiamo un attimo La situazione Però io non ho Madonna io volevo fare il letto Perché sto usando la piedra Sono cretino Non ce la faccio più ragazzi Sono diventato Ho una freccia in testa Ho una freccia in testa Perché? Perché fa moda Nuova moda Lord Creeper 96 Devo chiudere Magari ci cado dentro Improvviso Se Se Ne son sicuro Ne son sicuro Che accadrà Lo sapevo L'avevo detto Cosa avevo detto Che entro l'episodio Ci cadevo dentro Per sbattare Ma quanto Quanto sali lento Quanto sali Veloce Veloce Oh ma quanto sali Raga Quanto sta salendo lento Veramente Perché? Veloce Ci muoio Ci stavo morendo Veramente Faremo la casa Tranquilli Se ve lo state chiedendo Faremo la casa Non mi piace Non mi piace Questo suono Non mi piace Oh no Oh no Oh no Non ci siamo visti Noi Io sapevo Che avevo fatto bene A prendere Il fiore Piano Vieni È andato a fuoco Calmo 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 Non prendere fuoco Per favore Va tutto bene Possiamo Fare un accordo Non fare giravolte Per favore È laggiù È laggiù No Cosa sta succedendo? Non ho capito Cosa è di preciso Suicidio indiretta Non è uno scherzo Vediamo Ferro Questo metodo Ve lo sconsiglio È già finito male Ve lo assicuro Ve lo posso assicurare Che io Ho capito Che voglio il ferro Ma io voglio anche la lava No 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 Appunto Ho visto il coso Dell'enderman Sento l'enderman Faccio finta di niente Non mi avvelenare per favore Ok Ce l'abbiamo fatta Ah È passato davanti Io non ce Ragazzi Ragazzi Non ce la faccio a batterlo Se mi sgama è la fine Cioè se Se si mette davanti a me è la fine Cosa cazzo faccio Eh ragazzi C'è pure un creeper Puttana Eva Puttana Meno male che non mi è venuto Non abbiamo visto La potenza di quella mod Madonna ragazzi Io non posso morire con i ratti Ma siamo scemi Non posso morire con i ratti Veramente Sti rumori poi Quando ci sono sti rumori Vuol dire che C'è qualcosa di grande Ragazzi Non pensiamo male Per favore Prima i buchi Poi qualcosa di grande Basta per favore Non mi fate tirar fuori Frasi che non dico Funghi che mi possono servire Lo zombino Come impazzito Oh l'ho sentita Ho sentito una papera L'ho sentita Giuro Non sono scemo L'ho sentita L'ho sentita Ok non sono scemo Eh ragazzi C'è un piccolo problema O vado da qua sotto Praticamente muro Vivi Gli scheletri E qui mi devono Puppare La fava Direttamente Però è lì Anche uno scheletro Puttana Troia Eh no Ciao 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 ragazzi Non è mai che non c'avo nulla Non sto morendo No il creeper no Per favore Il creeper no Nemmeno Nemmeno davvero Nemmeno Boh Ma a parte che non avevo tantissimo Cioè è possibile riprendere il tutto Però Cioè veramente L'hard La modalità hard è veramente Ma veramente cattiva Cioè veramente Che palle Io quindi con questo video Cosa Ma che cazzo Ma mi fai fare l'altro Madonna ragazzi Veramente Io non posso nemmeno fare l'altro Ok Va bene Va bene Non faccio nemmeno l'altro No dai a parte scherzi Io con questo video Vi saluto Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Se vi è piaciuto particolarmente Potete pure condividere su facebook Mi fareste molto piacere E mi aiutereste molto Quindi Ci vediamo alla prossima puntata Ricordatevi Mod per Kedo E Magari anche qualche consiglio Per la casa Che appunto ormai è stata anche demolita Dal signor Creeper E niente E Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Non fate cattivi Cosa sei tu Perché mi stava Mi stava lanciando l'erba Cosa sei uno spaccino Cosa Non ho capito Cosa sono sti cosi Cosa Aia Cosa sta succedendo Cosa Cosa sta succedendo Cosa sta accadendo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo